John Kerry è il discorso sul piano quasi extraterrestre del World Economic Forum per salvare il pianeta. Quanto segue è una estrapolazione dell'ex segretario di Stato e attuale inviato per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, durante un discorso con i suoi amici partecipanti, un gruppo selezionato con un piano quasi extraterrestre per salvare il pianeta. E come ho detto nel video il portale del male per l'inferno è in atto in Svizzera, capite che si passano il testimone fra padre e figli, in questo caso fra padre e figlia. Inoltre vogliono convincere i governi a finanziare il loro piano con i soldi dei cittadini. Grazie a tutti per la vostra amicizia, grazie per avermi dato la stanza migliore che non ho mai avuto in 35 anni. Richiede molto tempo arrivare all'apice della scala e una volta che sei lassù non puoi più salire. Non sono io di sicuro, ma è veramente importante essere qui. Cerco di dirvi dell'incarico da sistemare e focalizzarsi sul compito a portata di mano, se posso. Sono privilegiato di convidere alcuni pensieri con ognuno di voi qui. Ieri sera ho disposto, mia figlia è qui, fa un sacco di lavoro per la salute, e ci siamo incontrati ieri sera, ci siamo seduti a parlare su come cambieremo il modo in cui le persone pensano riguardo a questo e parlano di questo e perché. Uomini adulti, presumibilmente saggi come amministratori, delegati, alcuni senatori dagli Stati Uniti, alcuni di loro con un sacco di voti, perché ignoriamo la scienza e vogliamo ignorare la matematica e vogliamo ignorare la fisica? E in qualche modo persuadere noi stessi per fare questo, per fare quello che bisogna fare. E quando inizi a pensare a questo è piuttosto straordinario che noi, un gruppo di esseri umani selezionati, perché qualsiasi cosa possa toccarci in qualche momento della nostra vita, siamo in grado di sederci in una stanza, arrivando insieme, e in realtà parlare di come salvare il pianeta. Voglio dire, è come un pensiero extraterrestre pensare, fra virgolette, salvare il pianeta, dove molte persone, tante persone pensano che voi siete tre pazzi liberali di sinistra, che si abbracciano, sapete, e non c'è alcun rapporto, ma in realtà questo è dove siamo. Osservate quello che succede alle specie, metà delle specie del pianeta sono già uccise. E se osservate il modo in cui viviamo, l'incredibile sorta di processo di distruzione in crescita, è il modo in cui lo interpretiamo. Non una crescita di illuminazione, ma come se una crescita di rapina di soldi. Dobbiamo farlo, perché dobbiamo creare il consenso politico che ci permetta a tutti di andare avanti. Adesso sto correndo contro il tempo e so questo, ma voglio solo... Non ho finito su questo, gente. Questo è quello di cui abbiamo bisogno, faremo questo col nostro accordo di tagliare con l'Indonesia, come abbiamo fatto. Succederà, perché siamo in grado di mettere insieme 500 milioni di dollari. Un grande prestito agevolato dalla Germania. Grazie Germania. Importanti contribuzioni da differenti enti. Ma non abbiamo tempo, gente, di mettere insieme affari su misura. Qui e in nessuna parte dobbiamo farlo su basi imponenti. E la chiave per questo, una delle chiavi è la filantropia. E non è solo la chiave, abbiamo bisogno dei governi che piacciono il denaro pubblico qui. Ma non c'è modo per vincere questa battaglia senza. Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menu a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico dove trovate oltre 2500 voci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri, le pigre, indottrinati, le indottrinate, i credenti, le credenti, rimanete pure a crociolarvi come una rana bollita nel sistema menzoniero. Ma per i curiosi, le curiose, avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena dove vi attende la verità e la verità vi rende liberi, liberi.